Comincerei da Giovanni Sabatini, l'anno scorso ci aveva annunciato una volontà dell'associazione di lavorare su questo tema della consapevolezza di quanto il contante sia costoso a livello di sistema paese in modo da creare le basi per la cosiddetta war on cash, quindi una serie di iniziative che vorrebbero portare anche l'Italia, imprese e consumatori ad utilizzare sempre meno contante a favore di strumenti alternativi più sicuri e più efficienti. Come è andata? Grazie. Devo dire, noi ci siamo impegnati, abbiamo lavorato su questa che io considero una battaglia di civiltà e di ammodernamento del paese, però devo dire le cose non vanno ancora come dovrebbero andare. Se noi andiamo a guardare ancora la distanza che ci separa dal resto d'Europa nell'utilizzo dei pagamenti effettuati con strumenti alternativi al contante, scusate, in una tavola rotonda forse non si dovrebbero usare le diapositive, però credo che in questo caso sia utile più delle parole graficamente rende l'idea della distanza che ci separa dall'Europa. L'Italia fa soltanto un percentuale di pagamenti con strumenti alternativi al contante che è meno di un terzo di quanto non sia la media europea. La metà di quanto fa la Spagna che è il secondo paese e direi il confronto non è nemmeno da discutere con altri paesi europei. Il costo di questo mancato utilizzo di strumenti alternativi al contante lo ha citato Massimo, circa 10 miliardi di cui solo circa due e mezzo sono a carico delle banche. Le altri di sette e mezzo sono a carico del sistema delle imprese, quindi è veramente un onere rilevante che potrebbe essere sicuramente risparmiato. Ma anche, e qui ritorno sul tema del perché è una battaglia di civiltà, perché l'utilizzo del contante e l'utilizzo del contante come vedete in Italia è assolutamente abnorme rispetto al resto dell'Europa, favorisce anche una serie di fenomeni devianti. Guardate, ecco qui noi abbiamo fatto una correlazione tra l'uso di strumenti alternativi al contante, quindi l'uso da parte delle famiglie di ad esempio di carte di debito di credito e lavoro nero. Allora quanto più si usano strumenti di pagamento alternativi al contante, tanto minore è la quota di lavoro nero presente nell'economia e viceversa. Quindi una correlazione molto ben visibile inversa. E guardate ancora sempre su questo tema, in questa diapositiva abbiamo confrontato il grado di diffusione di strumenti di pagamento di carte in Italia con allo stesso tempo, e questa è la parte sinistra del grafico, vedete soprattutto nel nord l'uso di carte molto più diffuso rispetto al centro e poi al sud Italia. Se guardiamo poi invece la percentuale di lavoro nero abbiamo una fotografia esattamente speculare, il rosso è soprattutto al sud dove quindi c'è una maggiore concentrazione di lavoro nero e mentre invece il giallo prevale al nord. Questo dimostra chiaramente come al di là dei risparmi di gestione amministrativa e di risparmi operativi dall'uso del contante oggi il promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante è veramente una battaglia di civiltà contro questi fenomeni che in questo momento contribuiscono a impoverire il Paese. è fondamentale recuperare in questo momento che abbiamo bisogno di risorse per finanziare lo sviluppo, per ridurre il debito pubblico, recuperare base imponibile. Da questo punto di vista credo che l'utilizzo di strumenti alternativi al contante sia un'arma fondamentale se non decisiva e devo dire che da questo punto di vista qualche passo in avanti lo abbiamo fatto perché già nel decreto sviluppo erano presenti una serie di misure che incentivavano l'uso di strumenti alternativi al contante, si vietava l'utilizzo del contante per importi superiori a 2.500 euro, quindi dimezzando il precedente limite e così via. Tuttavia noi riteniamo che questo sia ancora poco e credo che un passo importante sia anche l'accordo che abbiamo fatto nell'ambito del Piano per l'Italia redatto insieme da Abbi e Confindustria, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative è una delle misure che sono previste in un'altra in questo piano è proprio l'abolizione dell'uso del contante per transazioni di importo superiore a 500 euro e allo stesso tempo l'utilizzo di incentivi per favorire, a parte quindi interventi di tipo di divieto, ma anche creare un sistema di incentivi che favorisca la diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante. Credo che questo sia un tema molto importante. in questa slide abbiamo indicato alcune delle misure che possono essere adottate e devo dire in questa logica, nella logica di dire che in questo momento tutti devono fare la loro parte, in questa logica anche le imprese bancarie sono disposte a ripensare anche gli assetti commissionali applicati all'utilizzo di questi strumenti. Ovviamente nella libertà di ciascuna banca e senza quindi creare problemi o criticità rispetto alle normative antitrust, però una volontà in questo senso c'è sicuramente. Quindi credo che questo sia un tema fondamentale. Un aspetto determinante ovviamente anche per promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante è ovviamente il ruolo giocato della pubblica amministrazione. Ecco, in questa diapositiva che non so se si riesce a vedere, comunque abbiamo rappresentato la posizione di ciascuno Stato rispetto a due dimensioni, cioè lo sviluppo dell'utilizzo di tecniche informatiche, quindi di processi di e-government da parte dei Paesi e allo stesso tempo l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante. Purtroppo vediamo che l'Italia si posiziona nella parte più bassa della nuvola di punti insieme alla Grecia e alla Polonia. Tutti gli altri Stati si pongono su un lungo, un'asse crescente con ovviamente poi i casi più avanzati, Norvegia, Stati Uniti, Canada e così via. Quindi di nuovo il ruolo che la pubblica amministrazione può giocare in questo processo di sviluppo e di ammodernamento è fondamentale. Da questo punto di vista credo che il nuovo codice dell'amministrazione digitale adottato con il decreto legislativo del 30 dicembre dello scorso anno possa, se implementato rapidamente, avere un importante ruolo di leva per accelerare la velocità di questo processo e devo dire da questo punto di vista la collaborazione del sistema bancario dell'ABI con Digit PA è piena. è un tema, devo dire già l'anno scorso, credo proprio in occasione di questo convegno, avevamo verificato anche pubblicamente come ci sia una convergenza di interessi su questo tema. Purtroppo anche da questo punto di vista non siamo stati veloci come avremmo voluto, ma credo che si possa sempre recuperare il tempo perduto. Sicuramente un altro aspetto che incide sull'utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante è quello relativo alla sicurezza di questi strumenti. Credo che in Italia abbiamo raggiunto livelli di sicurezza assolutamente elevati e sicuramente in prima fila rispetto agli standard europei. Oggi il rapporto tra numero di transazioni fraudolente e totale delle operazioni effettuate con carte di pagamento è sceso, sono dati del 2010, allo 0,046%, cioè 4 transazioni fraudolente ogni 10.000 transazioni. Nel 2009 erano 5, quindi un livello di affidabilità molto elevato. Purtroppo il titolo non è di immediata interpretazione, il titolo vi dà la ripartizione delle transazioni non riconosciute, quindi potenzialmente fraudolente, tra quante sono state effettuate sul territorio nazionale e quante sono state effettuate all'estero. Vedete che in particolare il dato relativo alle transazioni non riconosciute effettuate in Italia è in assoluto il più basso rispetto agli altri paesi europei. Questo perché noi siamo stati tra i primi a utilizzare la tecnologia del chip nelle carte di pagamento, quindi progressivamente sostituendo la banda magnetica che invece è molto utilizzata all'estero e in effetti nel caso italiano i casi di transazioni non riconosciute effettuate all'estero è maggiore di quelle effettuate sul territorio nazionale. L'impegno comunque per aumentare gli standard di sicurezza è costante e passa anche attraverso una costante collaborazione anche con le forze dell'ordine e con il MEF e con la Banca d'Italia. Credo che un riconoscimento di questo sforzo è rilevabile nel recente regolamento applicativo della Banca d'Italia che ha recepito la PSD in Italia e che conferma la possibilità che i prestatori dei servizi attraverso la leva commissionale possano anche disincentivare l'impiego di strumenti di pagamento meno efficienti e affidabili. Quindi si riconosce che possono essere utilizzati anche questi strumenti per incentivare l'uso di strumenti alternativi al contante rispetto a una situazione attuale. Io non so se ho esaurito i miei minuti per questo primo giro di risposte e quindi dire che cosa finora abbiamo fatto. Magari poi nella seconda parte dirò che cosa stanno facendo le banche per ammodernarsi e per costruire un ambiente sempre più efficiente e pronto a recepire le innovazioni nel settore ITC.